Sabato 11 gennaio il Liceo Gatto di Agropoli ha aperto le porte della sede in via Danti Alighieri per accogliere gli studenti e i genitori impegnati nella difficile scelta di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2020-2021. Nella sede di via Danti Alighieri sono presenti gli indirizzi scientifico, scienze applicate, linguistico. I piccoli studenti sono stati accolti in un ambiente colorato e festoso, al centro del grande atrio e la bellissima esibizione del gruppo delle majorette dell'istituto che ha catturato l'attenzione di adulti e studenti. A piano terra la scuola ha ospitato il primo campionato di scacchi a tappe per studenti salernitani che ha visto impegnati giocatori grandi e piccini in un'atmosfera di grande concentrazione e che si è concluso con la premiazione dei partecipanti. Tutti i laboratori della scuola sono stati resi operativi, i laboratori scientifici in cui gli studenti del gatto hanno illustrato esperimenti di fisica e di chimica, il laboratorio informatico multimediale dove i piccoli studenti hanno potuto operare concretamente con la guida dei docenti e approfondire le conoscenze sulla robotica attraverso la mascotte della scuola Nau, il laboratorio linguistico dove è stato illustrato il percorso dell'indirizzo linguistico, la biblioteca scolastica, gli studenti insieme ai docenti hanno allestito aule dedicate alla lingua e alla cultura inglese, francese, tedesca e spagnola raccontando ai piccoli studenti le esperienze curriculari ed extracurriculari previste nel piano dell'offerta formativa. È stato inoltre possibile visitare la palestra e conoscere le attività sportive che vengono realizzate grazie alle molteplici iniziative promosse dai docenti e visitare l'auditorium utilizzato per tutte le manifestazioni della scuola. Genitori e studenti avranno tempo fino al 31 gennaio per decidere quale percorso scolastico scegliere. Sul sito della scuola www.liceogatto.it è possibile reperire informazioni sui vari indirizzi del liceo consultando l'informa genitori dedicato alle iscrizioni e pubblicato sull'home page.